Le elezioni regionali si svolgeranno a settembre. A confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla collocazione della tornata elettorale è stata il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Per le elezioni regionali non è stata ancora stabilita la data. Abbiamo l'esigenza di farle svolgere a settembre in base al parere del Comitato Tecnico Scientifico, che ha detto che ad ottobre potrebbe esserci un ritorno della pandemia. La data la decideremo nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, la macchina elettorale si è rimessa subito in moto. Il candidato del centro-sinistra, Eugenio Gianni, non ha perso tempo ed ha inaugurato un comitato elettorale a San Miniato, il luogo scelto dall'attuale presidente del Consiglio regionale della Toscana per iniziare la campagna poi interrotta dal Covid-19. Il nome dello sfidante pare essere tornato in discussione. In Toscana siamo in campo per vincere come è avvenuto prima in tanti comuni e capoluoghi e dopo nella vicina Umbria, ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che poi ha di fatto congelato la candidatura pre-Covid di Susanna Ceccardi. Vedremo, niente è stato deciso. Vedremo la rosa dei candidati portata al tavolo. Forse potrebbero esserci anche candidati più forti della Ceccardi. Niente scontato, ha detto Tajani, al momento l'unica certezza è che saremo uniti e che di desistenza non vogliamo sentir parlare.